Non lo so io Ovviamente sono rimasta molto colpita soprattutto dalla storia e dal significato di questo film e per questo motivo mi sono molto impegnata, mi sono messa a disposizione per far sì che la mia voce accompagnasse la storia veramente preziosa che hanno creato sia Edoardo curando la regia che Dayan scrivendo la musica di questa bellissima canzone Sofia è una persona che ti fa sentire coccolato, che ti fa sentire protetto è una gran fortuna conoscerla La cosa importante era di trovare una cantante che abbia un cuore grande come la sua voce La canzone parla di due persone molto diverse ma uniche Essere unici è un concetto che tutti oggi più che mai dovremmo sentire profondamente Io penso che sia importante dare questo messaggio Essere unici significa che siamo appunto tutti diversi E oggi questo è un concetto secondo me meraviglioso Quando essere invisibile è peggio che non vivere Nessuno ti vede Io sì